Paura e danni nel corso della notte in via Bassanese a Romano Dezzelino, dove un 26enne di Cassola ha improvvisamente perso il controllo della moto Kawasaki 750 su cui stava viaggiando. Il giovane è stato sbalzato a terra e ha riportato fratture alla gamba, a destra e traumi facciali. È stato subito ricoverato al Sambassiano, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.